Buongiorno signori ed eccoci al nostro appuntamento infrasettimanale per parlare di un bonus di ben 1000 euro che in pochissimi purtroppo conoscono e dunque in pochissimi richiedono. Parliamo oggi infatti di SAR, bonus a sostegno del reddito per i lavoratori somministrati. Io sono Mr. Lull e se vuoi anche tu diventare un lavoratore ipervitaminizzato e soprattutto non perderti nemmeno un euro di tutti i bonus previsti dal nostro ordinamento, beh che te lo dico a fare? Iscriviti al canale, attiva la campanellina, guarda il video fino alla fine e condividilo. Ma adesso bando alle ciance parliamo di bonus. Il SAR è un bonus a sostegno del reddito per i lavoratori somministrati, erogato dal Formatem, fondo per la formazione di categoria, a quei lavoratori assunti con uno o più contratti di somministrazione, a tempo determinato, indeterminato, anche in apprendistato, a condizione che siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato 110 giornate di lavoro in somministrazione nell'arco dei 12 mesi precedenti la scadenza dell'ultimo contratto. A questi lavoratori spetta un bonus a sostegno del reddito pari a ben 1000 euro. Oppure, secondo caso, lavoratori disoccupati sempre da almeno 45 giorni, che abbiano maturato questa volta 90 giornate di lavoro nell'arco dei 12 mesi precedenti la scadenza dell'ultimo contratto. A questi lavoratori spetta un bonus di 780 euro. Ma come si calcola il numero di giornate utili per percepire il bonus? Allora, dobbiamo andare a prendere le nostre buste paga e guardare i dati di testata. Qui vedremo vari dati come giornate lavorate, giornate retribuite, giorni IMS, eccetera. Dobbiamo andare a prendere il dato di miglior favore. In questo esempio che vedete in sovrimpressione abbiamo 9 giorni lavorati e 9 giorni IMS. Ai fini del bonus, per l'aspettanza del bonus, valgono i 10 giorni IMS, cioè il dato più alto, quello di miglior favore. La domanda, mi raccomando, va presentata entro 68 giorni dal raggiungimento dei 45 giorni di disoccupazione. Quindi contate bene i giorni, appena maturate il requisito scattate a richiedere il bonus, che, e questo è importantissimo, può essere richiesto ogni volta che si maturano i requisiti. Non è un bonus una tantum, ma scatta ogni volta che avete maturato appunto i requisiti previsti, cioè 45 giorni di disoccupazione e 110 o 90 giornate di copertura. Esistono diverse modalità per presentare la domanda di richiesta per il bonus SAR. La prima è una modalità telematica. Andiamo sul sito di Formatemp, ci registriamo, compiliamo il tutto. Oppure possiamo, senza registrarci, andare a scaricare tutta la modulistica presente sul sito e poi inviarla tramite raccomandata o PEC sempre al nostro amico Formatemp. La terza modalità è quella di rivolgerci direttamente a uno degli sportelli sindacali di categoria, ad esempio WillTemp. Qui sarà direttamente l'operatore dello sportello a compilare la domanda e a inviarla al fondo. Bene signori, io spero che il video possa assolutamente esservi utile per richiedere questo bonus, che certamente può farle a differenza e supportarvi in un momento di disoccupazione. Con questo è veramente tutto, Mr. Lul vi saluta, noi ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti da Mr. Lul.